Concentration, Concentration, Concentration Ringraziare l'autista dell'autobus del cazzo Ho ancora un paio di buchi da vedere nella mappa Oh guarda che c'ho questo Devo scegliere ancora dove andare Dannei giocatori nemici mentre sei su un veicolo Esamina un contenitore Accoglio munizioni Belle questo sistema di scelta delle quest Mi piace tanto E questa porzione di mappa è bellissima Volete che vi dico una cosa? Già sento la mancanza di questa mappa Già sento la mancanza Non so perché Mi dispiacerà di già quando la tolgono Sì sì mi piace anche la camminata Non ci vedo nessun problema Stai veramente venendo qua a rompermi il cazzo? Sei serio? E niente Assoldato Giampaolo? No no è ambientato in Italia Merda c'è Giampaolo che ci... Cioè ma se io faccio la combo medaglione Più questo che mi cura Aspetta perché questa è una cosa importantissima da scoprire Abbiamo appena scoperto una figata raga Cioè se io assoldo sempre... Io assoldo questo Ma state scherzando? Grande leonardino ha fatto bene Molto bene molto bene Niente posso continuare a curare come un pazzo Ecco questo... Questo è un possibile nuovo land Ma... Eh cazzo questo è bello come land raga Ma c'è anche la quest di pescare Non mi ricordo Eh fanculo poi la vedremo Devo vedere c'ho la quest di pescare Dimmi di noti prego Ah per fortuna non c'è È un land interessante tanto I 4 flopperazzi gasano Dentro con il gold full Nota con piacere che mi sono tenato i capelli Sono contento che nota con piacere che mi sono tenato i capelli Andiamo Vamos Devo dare una brutta notizia C'era C'era di da di da C'era di da di da Andiamo Recuperiamo gli ultimi forzieri E andiamo Questo land mi piace Questo land è interessante Ho dato una brutta notizia ho dato Ma però non ho... Allora aspetta Se io prendo adesso la pad Sto un attimo capendo Perché potrebbe essere un'altra Un'altra idea per un land eh Potrei già avere il secondo land Non mi sembra di vedere gente E' un'altra idea che non hai Ho scoperto una nuova location Molto bene Bello GG per la gente che non prende gli scudi God Grazie Grazie Ho traccato qua E' bellissimo Ci gente che si spara Non sono interessato a fightare Non ho il pump Quanto di passaggio Infatti me ne vado instant Questa è palesimente Grazie È arrivato un altro Un bot No bro Seguimi bro Andiamo 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 Ok E si io vado qua Qua c'è gente Centocento raga Sì sì l'ho presa le moto Della Bananato Molto carina Vabbè Minchia codice limitato 25 milioni di utilizzi C'è nel senso C'è gente Dov'è? Quasi sotto Da fuori mi cuore C'è Mottocordello Vediamo se si teletrasporta Qua da me Avrei potuto sparare A tutti e due Eh raga Va benissimo così Ah distanza percorsa Proprio In generale Perfetto che si è Si è teletrasportato qua Nice Andiamo raga Full shop Sì C'è il treno L'hanno preso il treno Non è ancora stato preso Se lo lascio sopra la macchina Perfetto che si è e che cazzo non muore che precisione che a questo fucile però raga merda no master ma davvero che c'è giampaolo che sono mobili che god mica l'ha distrutto raga io avrei voluto riprendere avrei voluto riprendere il treno facciamo andare a prendere il treno pronto non l'accaraggio del forzirazzo non si può accadere il treno peccato a cioè lui si apre lui si apre anche se dov'è quello possiamo intercettare qua lo intercettiamo andiamo a prendere il treno la a un chilometro e 9 riprendiamo il nostro treno cazzo scendiamo piano quello sicuro pure da solo sicura finché a god andiamo a tutto lui fa allora sincero pensavo che quella del treno fosse una gran cagata invece una figata ero convinto fosse una minchiata e invece col cazzo sono otto medaglioni in giro intanto e sono se li ha cacati io un pensiero ce lo farei che siamo già dentro in 10 non c'è neanche un veicolo una cosa come lo snow piercer in che senso snow piercer vai 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 buono due impulso extra se non rampino quando benissimo non si può stare fermi raga carica lo scudo assolutamente qua io non ho il pump non ho il pump questa è gravissima come ma non mi curare vai tranquillo tanto ti ho soldato giusto per farmi compagnia andiamo ecco lo scudo un po sgravato ma non lo so io non guardo le serie ragazzo scudo in questo senso frangente leggermente sgravato veicolo ragazzi a prendere il treno mi sa che ho visto dell'impulso qua ho visto bene non ho tempo di fermarmi non ho tempo la mano ma non c'è la si fa riconquistare il treno ma toglie ancora uno sta safe insomma a te basta numero 3 togli uno mi rompermi le palle veramente poi vengo lì ti rompo il culo no me la mettiamo lascia perdere la gente con i medaglioni me ne vado in safe me ne vado in safe questo qua ragazzi il distrutto no è troppo forte lo scudo cioè io qua avrei perso il fight 100 100 è troppo forte lo scudo non ha senso ma il socio mio dove è finito sa che è morto in tempesta dentro in 6 3 kill pulite si può fare bene mi porto intanto allegramente in centro safe qua si potenzia spara lento sto coso però sei pazzo a lasciare mobility ok l'ho visto non è un po pericolosa questa un attimo raga un attimo sempre fuori con lo scudo neanche mi attacca sto coglione davvero pepe fammi un favore la mia gioco eh qua diventa brutta qua diventa brutta visto non è molto precisa la pistola tagliamo tutto abbiamo riaperto tutto god 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 adesso sono l'impulso eh raga sono curato sono curato posizione 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 per forza pensavo voglio rompessere un po' di più quindi la mia gioco è venire se mi vede sono morto se non mi vede ci ho ancora una chance è stupido non penserà mai che sono qua non farti ingolosire dal loot non so dove è e il mini non li ho presi adesso ridiamo adesso ridiamo dove sei non posso andare su quel loot non lo so ragazzi tolga quella banana tachi tolga quella banana l'ho visto dov'è deve essere là se c'era lì il bot e lui dove cazzo è invece che bastardo ma l'ha mandato da un'altra parte ok 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 let's go easy merda mer